4 c'è la fatti unico ahahah cioè i fratelli siamo scesi c'erano due trappole insieme ahahah ahahah qua ecco proprio qua ce l'ho scontato vabbè dai sono 3 rimasti inizia ma basta che basta sono due tempo io non ti consiglio eh forza eh forza eh io vabbè solo uno ti manca adesso dimmi che è un qua 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 si qua mancano 15 secondi eh zio rimangono 10 secondi rimangono 5 secondi dietro un pescatore online c'è un buco buono 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 la l'acqua l'uomo d'attacco